Musica E contro la rovescia per tutte le riaperture si comincia già questa sera con lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 e poi ci saranno novità anche nel fine settimana per tutti i centri commerciali che riaprono nei weekend e poi ci saranno anche le palestre a partire dal 24 e così via via anche per altri tipi di esercizi tipo dal primo giugno anche la possibilità di pranzare all'interno dei locali al chiuso ma proprio primo giugno potrebbe esserci uno spartiacque fondamentale per la nostra regione che conferma di avere pochi contagi di essere sotto i 50 contagi al giorno quindi di poter essere, se questo sarà il trend almeno fino al 28 maggio dal primo giugno la possibilità di essere zona bianca zona bianca è una sostanza, una specie di liberi tutti quindi tolto soprattutto il coprifuoco questo potrebbe avvantaggiare soprattutto quelle attività come i teatri che appunto fino adesso hanno trovato molti problemi nonostante le riaperture e di loro ne parleremo oggi a Screenshot puntata dedicata agli spettacoli sul sipario benaugurante questo titolo per questo tipo di settore della cultura perché ricordiamo senza cultura anche senza cultura l'Italia non va avanti e soprattutto le Friuli Venezia Giulia che ha due perle fondamentali come il teatro nuovo Giovanni Daudine abbiamo in collegamento con noi il presidente Giovanni Nistri e poi abbiamo anche Anna Tema Teatro con Luca Ferri direttore artistico buonasera a entrambi buonasera buonasera allora parto subito con la domanda abbastanza anche scontata partendo da Nistri cosa vuol dire innanzitutto slittare quell'orario dalle 22 alle 23 anche se è solo di un'ora e nel caso in cui dovesse esserci la cancellazione del coprifuoco possiamo dire che la stagione si apre ma la stagione si apre comunque è chiaro che con la cancellazione del coprifuoco si aprirebbe nel vero senso della parola perché finora si è detto abbiamo riaperto i teatri ma con un coprifuoco alle 10 i teatri di sera non funzionano o possono funzionare con molte riduzioni e limiti quindi noi speriamo veramente che si sia imboccata una strada che in tempi brevi ci consenta veramente di lavorare normalmente dopo più di un anno di interruzione dell'attività ne abbiamo bisogno un anno di interruzione anche per voi Ferri per Anatema Teatro? sì anche noi siamo stati come tutte le realtà chiusi siamo stati fermi diciamo che le porte dei teatri sono state chiuse ma gli attori e il personale che lavora all'interno ha continuato a portare avanti tutto quello che sono i progetti gli spettacoli quindi abbiamo proseguito e grazie a questo lavoro che non si è mai fermato potremo cogliere i frutti proprio adesso che possiamo riaprire voglio precisare come ha detto il presidente che questo quest'ora che ci viene concessa in più adesso sicuramente aiuta i teatri le strutture a riaprire e a fare spettacolo ma da direttore anche di compagnia posso dirvi che quello che ci interessa è poter tornare a fare il nostro lavoro se il coprifuoco fosse rimasto alle 22 sicuramente noi teatranti avremmo trovato il modo di anticipare di fare teatro in qualunque luogo a qualunque costo ma l'esigenza è quella di tornare ad aprire il sipario a qualunque orario certo sappiamo insomma che chi lavora nel teatro d'altronde fa della creatività la propria forza quindi di sicuro non vi sarebbe mancato diciamo questo tipo di sprint che magari in altri settori manca ma nel vostro non ho di sicuro però Nistri voi vi state riorganizzando a questo punto cosa succederà nei prossimi giorni quali le novità per gli spettatori del teatro nuovo Giovanni Daudina come anche noi ovviamente anche se il teatro è rimasto chiuso per la parte spettacolo abbiamo continuato a lavorare perché ci sono dei servizi sia tecnici che amministrativi che nel teatro non si possono fermare ma la stessa programmazione è continuata perché bisognava essere pronti in qualunque momento a ripartire con dei programmi noi che siamo un teatro di ospitalità è chiaro che abbiamo bisogno di continui collegamenti e di consultazioni con le compagnie che producono gli spettacoli in modo da poter concludere poi gli accordi nel momento in cui questo è possibile cosa succederà d'ora in poi noi abbiamo riprendiamo una programmazione che comincia da giugno e arriva fino ad agosto avanzato forse anche ai primi di settembre che più o meno è già inquadrata in un progetto dopo continueremo ovviamente perché con l'autunno e con l'inverno continuerà la programmazione questo sabato sabato 22 maggio faremo una serata di incontro con il nostro pubblico una serata gratuita dove ci saranno delle esibizioni comunque ci sarà un grande attore ospite d'onore che sarà che è Ero Spagni proprio per ricontattare la gente dopo tutto questo periodo di forzata interruzione e è chiaro che sarà una stagione più lunga del solito perché comincerà anziché nei termini normali ricomincerà a giugno e praticamente durerà quasi un anno Utilizzo di voucher perché si è perso gli spettacoli con gli scorsi abbonamenti c'è la possibilità in che modo? Giusto per informare anche la gente e poi mi chiedevo anche che cosa si troveranno davanti le persone quali tipi di disposizioni protocolli che dovranno essere eseguiti? Beh per quanto riguarda il teatro Giovanni Daudine ovviamente noi rientriamo nel limite massimo di 500 posti utilizzabili che abbiamo già riorganizzato nella sala utilizzando però anche le gallerie ovviamente perché nella platea mantenendo le distanze non si riesce a sistemare più di 250 260 persone è chiaro che ci saranno tutte le norme di sicurezza quindi noi abbiamo all'ingresso per il pubblico il termoscanner non c'è sosta di pubblico nel foyer il bar è chiuso il guardaroba anche quindi si arriva direttamente al posto si occupa il posto dal posto non ci si muove per tutta la durata dello spettacolo si tiene la mascherina per tutta la durata dello spettacolo e senza parlare con nessuno perché durante lo spettacolo ovviamente non si parla i biglietti vengono acquistati via internet quindi non c'è assembramento al botteghino credo che più o meno tutte le norme sono state rispettate in più noi faremo come prescritto anche del resto sia per tutto il personale che lavora in teatro a contatto col pubblico sia per chi si esibisce sul palcoscenico ci saranno questi test preliminari fatti il giorno prima probabilmente per essere sicuri che nessuno abbia delle patologie in alto in modo che credo anche con questo rappresentiamo un'ulteriore garanzia per chi potrà venire a teatro senza grossi problemi test in che senso? faremo i tamponi tutti verranno testati con dei tamponi il giorno prima dello spettacolo e questo succederà anche per quelli che andranno in palcoscenico ovviamente ok Ferri io ho letto anzi ne abbiamo dato anche notizie sabato scorso c'era stata anche una conferenza stampa a Villa Manin si parlava di un'iniziativa che abbina sempre di più anzi forse è anticipato un po' la location Villa Manin che abbina sempre di più cultura e vaccini in modo da attirare anche la gente in modo da dare intrattenimento alla gente di che cosa si tratta? non lo voglio svelare io adesso vorrei sentirlo da lei allora diciamo che abbiamo pensato al messaggio che grazie al vaccino ripartono tutte le attività e soprattutto riparte l'attività del mondo dello spettacolo esiste un vaccino che ci è dato dalla scienza che aiuta nel combattere la malattia ma il covid non ha portato solamente i sintomi che conosciamo ha portato anche l'isolamento delle persone quindi dei sintomi anche psicologici la gente ha bisogno di ritornare ad incontrarsi ha bisogno della cultura e noi come teatro e come ente culturale abbiamo sentito il dovere di proporre il nostro vaccino teatrale così abbiamo fatto questo progetto che abbiamo presentato in regione il vaccino va in scena abbiamo trovato un grande entusiasmo da parte dell'amministrazione regionale che ha deciso di collaborare attivamente nel portare nei centri vaccinali della regione questi mini recital nel mese di giugno saremo al centro vaccinale in fiera a Udine faremo questi spettacoli dalle 14 alle 16 di 15 minuti perché saremo nelle sale post vaccino quindi dopo che le persone si sono vaccinate attenderanno un quarto d'ora prima di essere di essere libere bene lì in quelle sale noi faremo questi recital dove racconteremo quello che è accaduto in passato dopo le grandi pestilenze quindi dopo la peste nera dopo le grandi epidemie e le arti il teatro la commedia dell'arte Shakespeare come hanno vissuto questi momenti faremo dei brevi monologhi tratti appunto da Shakespeare tratti per esempio dal De Camerone insomma da opere importanti e concluderemo questi mini recital con dei momenti cantati accompagnati dalla voce di un soprano quindi quando è il primo appuntamento? debuteremo il 3 di giugno proprio nel centro vaccinale di Udine allora noi andiamo in pubblicità poi ci ricollegheremo per parlare sempre di cultura e teatri pubblicità Bentornati con Screenshot seconda parte di una puntata dedicata alla cultura perché se è vero che i teatri hanno potuto riaprire dal 26 di aprile però è anche vero perché per tutto questo mese il coprifuoco certo non ha creato dei vantaggi assolutamente per questo tipo di settore per la cultura che rappresenta un asset fondamentale per l'intera regione Gianni Nistri Giovanni Nistri presidente della fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine da una parte dall'altra parte li vedete Luca Ferri direttore artistico di Anamatea qui mi sbaglio mi sono ingamberato Anattima Teatro che non è uno scioglilingua ma ogni tanto ci si ingambera è il bello della diretta ricomincio da Ferri perché volevo anche chiedere quali sono i calendari a questo punto degli appuntamenti per quanto riguarda il vostro tipo di associazione Allora come dicevo prima il lavoro durante tutto questo periodo di lockdown il continuo lavoro nonostante le porte del teatro siano state chiuse ci ha permesso di seminare e di preparare i progetti per quest'estate che devo dire ci stanno dando degli ottimi risultati proprio oggi abbiamo presentato in conferenza stampa online quella che sarà la nostra estate saranno quasi 100 appuntamenti quindi 100 repliche di spettacoli tra il mese di giugno luglio e la prima decina di giorni di agosto debutteremo il 3 di giugno con lo spettacolo itinerante Inferno dedicato a Dante uno spettacolo con oltre 12 attori che girerà tutto il Friuli Venezia Giulia il Trentino il Veneto la Lombardia e chiuderemo l'8 di agosto a Torino quindi un giro importante solo di questo spettacolo abbiamo creato una tournée di oltre 30 date poi la tournée di Teatro Ragazzi la tournée dei Recital che vanno a riempire altre 50 date insomma un calendario importante non solo nella nostra regione ma posso dire in tantissime altre zone che riguardano soprattutto l'Italia settentrionale Nistri volevo chiedere due cose la prima considerazione ho sentito adesso con Dovizia di particolare da parte di Ferri la conferenza stampa che hanno fatto online perché esiste ancora questo online può essere qualcosa che va a supporto vista anche la capienza che c'è di 500 persone che è limitato quante persone voi potreste contenere in totale il teatro? nel Giovanni Daudine 500 abbiamo il limite ecco 1000 esatto 500 quindi ci saranno altre persone che non possono essere magari soddisfatte e non possono venire ovviamente al vostro ai vostri spettacoli ma magari qualcosa di non so dico qualcosa campato per aria magari che vada online e nello stesso tempo magari essere in presenza è possibile tutto questo che possono andare paralleli o possono continuare l'online anche in futuro no io cioè parliamo di due cose diverse la tecnologia sicuramente può e deve aiutare lo spettacolo dal vivo ma pensare di fare uno spettacolo in contemporanea dal vivo e in streaming credo che non sia opportuno a parte il fatto che il teatro Giovanni Daudini io spero prima o poi più prima che poi ritornerà a poter usare i suoi 1200 posti ma anche con una limitazione si può superare l'ostacolo che ci sarebbe comunque anche con i 1200 posti perché più volte noi facciamo il tutto esaurito e dobbiamo rifiutare nuovi spettatori perché non ci stanno in sala però dico anche con i 500 posti risolviamo il problema in qualche modo con più repliche che ovviamente con 500 posti creano problemi economici però consentono anche al pubblico di poter scegliere fra più giorni e più ore nelle quali poter partecipare a uno spettacolo però lei mi ha già risposto a questa domanda dicendo che 500 persone comunque avere 500 posti a disposizione anziché 1000 o 1200 potrebbe creare alla lunga sperando che tutto si sistemi a partire da settembre ottobre alla lunga sicuramente ma io spero che la lunga non voglia dire un anno o due perché altrimenti veramente saremo nei guai grossi diciamo che è una cautela che ancora rispettiamo perché nell'avvio io sono d'accordo bisogna stare un po' attenti per non essere imprudenti e poi doversene pentire dopo Ferri lei è d'accordo con quello che ha detto sia una considerazione dell'online che alla fine non deve sostituire la presenza sia queste disposizioni che rischiano di essere magari a lungo andare restrittive va bene adesso ma non possono andare certo bene dopo ma assolutamente sì speriamo che la presenza vada a sostituire completamente l'online nel senso che per ora visto che abbiamo questa insomma questa opportunità di comunque arrivare agli spettatori attraverso questi mezzi tecnologici sfruttiamoli ma facciamo sì che siano solamente momenti come dire attimi temporanei perché il teatro ha bisogno del rapporto umano ha bisogno di sentire la presenza del pubblico anche se noi abbiamo la comodità di vedere uno spettacolo seduti sul divano a casa nostra non è la stessa magia non è la stessa la stessa cosa che sederci sulle poltroncine del teatro quindi speriamo che il teatro la presenza vada a sostituire l'online non c'è piattaforma streaming che che tenga non c'è Netflix teatrale che tenga che sia meglio di un posto in teatro con l'odore del sipario del palcoscenico che che ci offre uno spettacolo insomma voi confidate di più nel chiedo a entrambi confidate di più nell'entusiasmo della gente di ritornare in presenza di risedersi su queste poltrone piuttosto che godersi un film su Netflix perché ho messo abituata insomma per non fare pubblicità Netflix piuttosto che Amazon Prime o altri insomma ecco adesso non me ne voglia Amazon Prime se no mi arriva la denuncia magari perché non l'ho citato così tanti altri Ferry sì decisamente sì ma sai facevo un po' dicevo il Netflix teatrale perché da un po' di tempo si parla di questa piattaforma che è stata messa in campo dal ministero per proporre spettacoli come se fosse appunto uno streaming non era caso questa domanda ecco una spessa di provocazione diciamo che insomma io non credo che questa sia la strada giusta credo che sia qualcosa per tappare per mettere una toppa provvisoria ma sicuramente se dobbiamo investire dei soldi investiamoli per far ripartire questo settore per dare una boccata d'aria anche alle realtà proprio piccole piccole magari al singolo attore alla compagnia di due attori al piccolo teatro da 15 posti insomma aiutiamo questo settore a ripartire e non investiamo più di tanto nella costruzione di piattaforme che lasciano il tempo che trovano insomma certo e Ferri adesso vedendola così in quell'immagine mi fa un po' tristezza vedere tante sede vuote devo essere sincero non so se tirarle le orecchie perché la prossima volta metterà degli spettatori dietro che è un po' meglio insomma sono in attesa e d'altronde questa è la realtà in questo momento poi deve sapere che anche la magia del teatro quando la compagnia appena ha finito le prove del giorno ed è in attesa dell'entrata del pubblico c'è questo c'è questo brivido questa scintilla questa magia che un po' stiamo risentendo tutti ci stiamo un po' preparando come se fosse la vigilia di Natale domani mattina apriremo i regali si si riapriranno i teatri e quindi la sala vuota non è più in silenzio come nei mesi passati adesso è già in fermento si sente già il bucicare è in fermento Nistri ci sono prenotazioni richieste assolutamente in fermento a parte il fatto che anche noi abbiamo usato questo tempo per fare anche delle cose in sala che ovviamente usavano la tecnologia però sia chiaro la tecnologia lo streaming tanto per tornare al punto dolente secondo me è un altro spettacolo un'altra forma di intrattenimento che si può fare si può seguire la gente non va al teatro tutte le sere quindi anche le sere in cui se ne sta a casa vede altre cose ma citando non so da chi l'ho sentito ho letto recentemente una frase di un'intervista di un qualche grande attore italiano che diceva che in teatro l'attore non recita per il pubblico recita con il pubblico quindi è il pubblico stesso che contribuisce a creare lo spettacolo di quella sera cosa che ovviamente con uno schermo in mezzo non si riesce a fare pur essendoci spettacoli ottimi anche sullo schermo non sto discutendo su questo certo quanto se avete rimesso entrambi nelle vostre due attività tipo teatro giovane da Udine oppure la sua sensazione Ferri quanto avete rimesso Presidente cominci lei no voleva partire da un incasso più elevato quanto ci abbiamo rimesso è dura perché noi siamo un teatro di ospitalità che ha la fortuna o la capacità non parlo solo del consiglio d'amministrazione in carica ma anche di quelli precedenti di avere fra i ricavi più del 50% biglietti abbonamenti cioè il pubblico pagante quindi è chiaro che fermando l'attività si perde una fetta cospicua delle entrate peraltro con i contributi che i nostri due enti partecipanti Regione Comune di Udine versano che sono meno del 50% però sono la benzina per fare in modo che il motore possa produrre il rimanente 51-52% noi come teatro normalmente in una stagione poi è difficile stabilire la perdita possiamo dire questo che dalla biglietteria si ricava mediamente intorno al milione e mezzo di euro nel 2020 dove peraltro abbiamo continuato a fare una parte di attività perché ci siamo fermati ai primi di marzo abbiamo ripreso in ottobre ma ci hanno fermati subito ma ciò nonostante abbiamo ospitato quasi 40.000 presenze in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto ecco però l'incasso si è ridotto a meno della metà poco più di 600.000 euro ovviamente a questo punto i contributi degli enti partecipanti diventano essenziali lo sono sempre ma diventano indispensabili per non finire veramente in una situazione rovinosa quindi poi quantificare è esattamente la perdita difficile non è preciso certo siamo rimasti in piedi e speriamo di ricominciare a incassare tra biglietti e avvolamenti certo Ferri guarda io credo che questo momento di questa pandemia sia arrivata in un momento particolare credo che naturalmente porta con sé tantissime cose negative ma forse di positivo c'è che ci ricorda quella famosa selezione naturale cioè ci ricorda che ci fa notare che quelle realtà quelle strutture che hanno lavorato bene in passato che si sono costruite che sono solide sono riuscite ad affrontare con un pochino meno difficoltà questo periodo difficile posso dirti che noi abbiamo siamo entrati nella pandemia con un insomma eravamo abbastanza solidi dal punto di vista economico riuscivamo a sostenerci molto bene tanto che nessuno dei nostri dei nostri dipendenti è stato a casa abbiamo deciso di investire tutti i risparmi della compagnia per continuare a pagare gli stipendi ora siamo arrivati alla posso dire non alla fine di questi risparmi ma adesso è il momento di riaprire perché adesso veramente abbiamo bisogno di ricominciare a guadagnare anche per Anatema e per il teatro della Corte sono fondamentali come per tutto il settore della cultura sono fondamentali i contributi regionali i contributi statali che fortunatamente continuano ad arrivare arrivano e aiutano il sostentamento della compagnia ma abbiamo sempre improntato il nostro lavoro con un certo rischio di impresa cioè abbiamo sempre cercato di di proporre il lavoro e di vendere il nostro lavoro e fortunatamente questa questa metodologia ci ha permesso di mettere delle buone basi che ci hanno fatto sopravvivere durante questo periodo ma adesso c'è bisogno abbiamo bisogno anche noi di riaprire bene allora in bocca al lupo a entrambi non so se si dice così a teatro viva il lupo viva il lupo si dice anche in un altro modo ma non lo dice ecco evitiamo perché lo so anch'io ma non cadiamo in quel gergo lì va bene sempre di animali si parlava comunque quindi va bene grazie grazie a Luca Ferri grazie a Gianni un saluto affettuoso a tutti quanti buon lavoro in ogni caso ecco mettiamola così buon teatro buon teatro a tutti grazie mille grazie a tutti arrivederci anche da questa puntata di screenshot a domani grazie a tutti